Oggi parleremo di qualcosa di affascinante, i diamanti. So che alcune di voi preferiscono le pietre colorate, ma il diamante ha un fascino tutto suo. Quando si sceglie un gioiello, deve avere un significato personale, un legame emotivo con la situazione o con voi stesse, non è solo un oggetto. Le pietre preziose hanno una storia millenaria, sin dai tempi degli Egizi e prima ancora. Le pietre vengono considerate fonti di energia, capaci anche di respingere le energie negative. I diamanti, in particolare, sono stati associati a leggende e miti antichi, come quello del dio delle miniere che li avrebbe creati per la loro bellezza e luminosità. Il diamante è una forma modificata di carbonio, nato a profondità elevate sotto altissime pressioni e temperature. Nasce come diamante grezzo e deve essere tagliato per ottenere il brillante perfetto con le sue 57 sfaccettature che rifrangono la luce in modo unico. Quando si acquista un diamante, è fondamentale prestare attenzione ai 4C, carato, colore, purezza e taglio. Il carato si riferisce al peso, ma è diviso in punti, quindi può esserci differenza tra 0,20 e 0,10. Il colore va dalla lettera D, colore trasparente e bianco, alla Z, colore giallognolo. La purezza indica l'assenza di inclusioni, mentre il taglio riguarda la rifrazione della luce. Vi consiglio di fare valutare il diamante da un esperto e di richiedere sempre la certificazione che ne attesti le caratteristiche. Non è necessario comprare un diamante eccessivamente grande, è meglio optare per una pietra più piccola ma di qualità, il valore rimane e cresce nel tempo. Ricordate che l'anello di fidanzamento non deve per forza essere un diamante, può essere una pietra colorata con contorno di diamanti, rappresentando protezione e amore. Le pietre preziose sono un modo straordinario per esprimere emozioni e connessioni speciali. Spero che queste informazioni vi siano state utili e vi ringrazio per seguirmi. Continuate a iscrivervi al mio canale e ci vediamo al prossimo video.